scat man's world bella ragazzi a tutti del comandone veneziano ragazzi West Ham Liverpool adesso non possiamo più sbagliare purtroppo adesso siamo già a un punto decisivo per il campionato vai vai ragazzi sta piovendo ma quello che conta adesso è vincere purtroppo non abbiamo altre chance che vincere sta cazzo di partita abbiamo ancora vincere una partita ufficiale tra campionato e coppa starridge 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 incazzato nero starridge bravo nastasic ramirez vai sterling ti prego muoviti sterling vai sterling e sterling si invola sterling si invola sterling si invola sterling si invola e ramirez la mette 1 a 0 liverpool 1 a 0 cosa ha fatto sterling e ramirez la mette ha trovato la conclusione di prima trovando un gol fantastico bravo lui non c'è dubbio bravo anche il compagno no nolan palo palo è parata difesa oltranza tutta la via ancora 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 non finisce più questa cazzo di partita sotto il diluvio inglese si rispera giustamente ma dov'essere una buona opportunità probabilmente ne capiteranno altre vai mignone buttala in curva butterà dove vuoi la prende ancora il west ham bravo bravo coutinho teniamo palla e coutinho se ne va e coutinho se ne va e coutinho la dà a balo vediamo se si sveglia il balo e Balotelli farà cagata finisce 1 a 0 finalmente vittoria bravi ragazzi vai vai Balotelli vai Mario vai Mario vai Mario non riesce a bloccare attenzione nessun dubbio qui dopo il vantaggio arriva il cartellino già l'azione è proseguita per il vantaggio ma il fallo il fallo era troppo brutto per poter ignorare ci sarà rimesso laterale da buona posizione vai Liverpool Alberto Moreno Salvio 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 la mette in mezzo non ce l'arriva Starridge fallo sciocco che concede una punizione cazzo fallo non ho capito perché Gerard gol di Gerard gol di Steven G Steven Gerard 1 a 0 come gliel'ho messo su punizione ecco Steven esplode l'Anfield Road è esploso l'Anfield ragazzi esploso secondo tempo è anche un po' infortunato con Balotelli non riesco a segnare è pazzesco questa la vinciamo Balot vai fischia arbitro fischia e si va a vincere ottimo 1 a 0 Starridge fa il miracolo Sterling e c'è il gol del Balot e c'è il gol del Balot finalmente e c'è il gol del Balot in Champions siamo in 10 incredibile come Draxler viene molto bene il Farfa attenzione super gol di Klassian un terrar 1 a 1 pareggio di un terrar attenzione Gerard Gerard Steve Gerard Brotelli e c'è il gol di Mario tira appena 2-1 si è svegliato Mario fioi bravo si era un po' di fortuna attacca bravi ragazzi finalmente vedo un Liverpool di cuore ahogo attenzione da solo far fa porca troia ancora il Farfi 2 a 2 incredibile salvio se ne va salvio se ne va salvio se ne va salvio se ne va 3 a 2 la difesa dello Schalke impietrita della velocità di salvio grandi ragazzi dai che adesso ci siamo i giocatori del Liverpool festeggiano il gol del vantaggio arrivato allo scadere e questo gol potrebbe dar loro la vittoria e questo gol pesantissimo molto probabilmente riuscirà alla gara si non vedo come gli avversari possono recuperare manca troppo poco alla fine fischia fischia arbitro ti prego ultra difesa altranza la mette in area butta via lo prego fia butta via no untela 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 incredibile 3 a 3 non ho parole salvio salvio sfruttiamo il calcio di inizio salvio niente non va pazzesco salvio vede balottelli non c'è credo balottelli niente da fare gran recupero difensivo 3 a 3 andiamo a vedere le classifiche non si credo non ho parole allora in campionato siamo all'unicesimo posto con 8 punti il Manchester United è già in fuga a 14 ok Champions Cup vediamo il nostro girone siamo a due punti con la sciarca di San Dalliegi peccato mi ha perso un'ottima opportunità raga vediamo anche un saluto pomentone crane da veneziano di Cummenda veneziano, lo youtuber s'italiano